Musica Amici di EcoTV ben trovati in questa nuova edizione di Dopocorsa andremo a riavvolgere il nastro del fine settimana appena concluso anzi andremo più in là perché cominceremo il nostro percorso già da giovedì 25, giorno della liberazione, in campo i cavalli soprattutto a Milano per il Gran Premio Ettore Mario Barbetta e questo è il nostro primo servizio che riguarda questa prova per cavalli anziani sulla distanza dei 2700 metri 2720 per i penalizzati, tanti a sfidare la corona di Boccadamo conquistata un anno fa e invece proprio l'allievo di Holger Ellert guidato da campione da Roberto Vecchione a concedere il bis e scrivere ancora il proprio nome sull'albo d'oro di questo Gran Premio 1.14.5 la media chilometro di Boccadamo che sul palo lascia dietro Vaprio e Caronte Trebì il figlio di ideale Luis e Marsena di proprietà di Raffaele Chiaro è alla 22esima vittoria in carriera con una percentuale di successo del 35% Boccadamo passa su Cardoso che ha finito, Boccadamo a 300 dal traguardo è in vantaggio con Vaprio in mezzo alla pista, Boccadamo a tre quarti nei confronti di Vaprio, Boccadamo in vantaggio, si allunga a 100 dal traguardo Boccadamo cerca il disco l'anno scorso, gestito da par suo da Roberto Vecchione guidata a top, viene a vincere Boccadamo su Vaprio, Caronte Trebì che quasi non ha corso così come Dilva Jet, Roberto Vecchione ha pennellato un quadro è rimasto ad agguardare tra il secondo e il terzo tenendo chiuso Caronte attaccando in progressione, capendo di passare, tenendo la Vaprio e passando in retta e staccando e vincendo nel più facile dei modi, 1.12 l'ultimo chilometro Boccadamo ne ha vinte due a seguire, Roberto Vecchione da 10 elodi il team Ellert, Holger Ellert, Raffaele Chiaro, la vittoria netta e meritata per Boccadamo Restiamo al 25 aprile, andiamo a Firenze, grande corsa anche per il Galoppo è la corsa dell'Arno, in pista e cavalli di 4 anni e oltre sui 2200 metri in questo handicap principale, una corsa storica, giunta all'edizione numero 197 la più antica prova del Galoppo in Italia, pensate davanti a un pubblico folto e acceso resta negli occhi la stoccata finale di Brigante Sabino che con Dario Di Tocco in sella ha regolato la concorrenza e confermato la propria buona vena delle ultime uscite il 6 anni figlio di Zoffani ha così ritrovato la vittoria di prestigio che mancava da due anni dietro di lui l'ottimo Certaldo per una doppietta di Endobotti, terzo il vivace Tramaglino Poi Certaldo, buon ordine dietro, Brigante Sabino attacca Tramaglino i due hanno acquisito vantaggio, la rincorsa poi per Certaldo è passato Brigante, non stacca da rivale, Brigante Sabino ha in vantaggio è Dario Di Tocco, Brigante, Sabino da favorito vince la corsa numero 197 dell'anno c'è il batticinque con la corrente Alessio Satta che montava a Certaldo Tramaglino in corda, andiamo a rivedere il tutto, che bella corsa Tramaglino ha provato a scappar via dopo aver graduato sul percorso Nicola Pinna cambia frusta, attacca Dario Di Tocco giocato a tutte le quote direi Brigante Sabino numero 3 che sul palo copre completamente Tramaglino e contiene Certaldo tutto in casa a botti come sempre Ci trasferiamo adesso nel fine settimana e andiamo al sabato di San Siro su tutto il programma milanese spiccava il premio Ambrosiano prova di gruppo 3 per cavalli anziani sulla distanza del doppio chilometro nell'ipotesi della vigilia doveva essere un duello tra Best of Lips e Flex Up che all'ultima aveva battuto Tempesti invece la sfida non c'è stata Best of Lips allievo di Andrea Suborix montato da Ugo Buten ha fatto corsa a sé si è un posto nettamente chiudendo in passerella a quattro lunghezze Wild Pansy ha poi preceduto Lord Sakai quarto posto per H.S. e solo quinto a Flex Up danneggiato sul percorso da Mitico poi retrocesso al sesto posto Mitico che è quello che rompe gli indugi in maniera più chiara andando su Rainmaker Wild Pansy all'interno Best of Lips che si scopre anticipando Mercur che sembra in fase calante poi Lord Sakai a largo di tutti si prova ad avanzare un Flex Up l'attacco di Best of Lips che insiste su Mitico Wild Pansy all'interno che dice la sua Flex Up che prova a fare finale ha chieso che rimane in quota l'attacco di Best of Lips che è passato in vantaggio allo steccato delle tribune gli altri si prendono a sport e l'altra mentre Best of Lips ingrana la marcia e stravince l'Ambrosiano come da copione Wild Pansy è Mitico vicinissime per la miglior piazza non ci sono Santi Best of Lips è più forte e Best of Lips ha vinto per la Stalintec ai colori Ugo Boten in sella per il signor Suborix al train Altra corsa di spicco all'Ippodoma di Milano l'handicap di Primavera prova sulla distanza dei 1800 metri per cavalli di 4 anni e oltre è un handicap principale C corsa dalle grandi promesse che ha messo in vetrina la consistenza di Capotempesta Pedina di Luciano Vitabile affidata a Dario Vargiù Buono il suo rientro è del 13 aprile era stato quarto nell'handicap vinto da Passerotto davanti a Storm Shelter ottima la prestazione di sabato chiusa con la quarta vittoria in carriera su 46 corse precedendo proprio Storm Shelter di mezza lunghezza poi Tresu del Sol e De Gret Brozo Emperor All Love richiesto così come Maleducata Treasure Soul che si avvicina gli altri due ancora a contatto Dazzle Down è sempre in vantaggio su De Gret Brozo su Contettiglio Capotempesta che sta avanzando Storm Shelter di fuori poi ancora Uragano e Treasure Soul l'attacco di De Gret Brozo Capotempesta che passano di fuori Storm Shelter che fa il suo arrivo poi Treasure Soul Capotempesta e Storm Shelter che sono passati in vantaggio su De Gret Brozo e Treasure Soul nell'ultimo tratto Capotempesta su Treasure Soul all'interno Storm Shelter a largo ma è Capotempesta che vince credendosi del buono ancora Capotempesta il Cavallo Banca Dario Vargiunserla che colpisce il colore del Signore Vitabile Stefano per il Signore Vitabile Luciano Altreini Ed eccoci alla grande Domenica delle Capannelle la Domenica delle Ghinee cominciamo però a parlare del premio Botticelli una listed per cavalli di tre anni sui 2800 metri 12 partenti in questo test di prestigio che porta dritto al derby i promossi in questa corsa sono altri Dark Defense e Cicotai primo e secondo staccando tutti in posizione invertita rispetto al Brigadier Gerard per Dark Defense allenato da un raggiante Pierantonio Convertino e montato alla grande da Pasquale Borrelli è il terzo successo in nove uscite Cicotai e Alberto Sanna l'hanno seguito a ruota uno a uno tra loro La Bella il 19 maggio Ampie folate perviene sulla prima linea Dark Defense che passa in netto vantaggio quando mancano 150 metri al traguardo nel tratto conclusivo è solo gestione per Dark Defense che si libera di Cicotai e vince facilmente il Botticelli al terzo posto Tossin e al quarto Man with a Plan Dark Defense ribadisce il concetto e ribalta la linea con Cicotai oggi senza paraocchi Dark Defense vince la terza corsa in carriera figlio di National Defense allenato a Pierantonio Convertino per i colori di Elisabetta Marciali Sinsella Pasquale Borrelli vince Dark Defense ed eccoci al premio Parioli gruppo 3 sulla distanza di 1600 metri per cavalli di tre anni un po' l'esame di laurea per questa categoria Melfi superstar qui l'allievo di Endobotti 4 vittorie nelle ultime 5 uscite veniva da rientro con successo nel super handicap del primo aprile era quello il segnale di una forma al top che infatti ha consentito a Melfi di fare ancora centro sul traguardo più importante con Dario Di Tocco in sella il portacolori della Chelsea scatta a 400 metri dal palo e lascia indietro tutti tranne Maturlo che sul palo rimane dietro ma con un piccolo giallo che costringe i giudici ad andare al VAR poi la sentenza il leggero undeggiamento del leader di fronte all'attacco dell'avversario non è da squalifica attaccato all'esterno da Maturlo i due che si staccano definitivamente in lotta dall'interno Melfi che stacca il passo e vince il Parioli nei confronti di Maturlo per il terzo posto vicini River Spot e Gorghan Melfi il favorito che dopo il Dommier porta a casa anche il Parioli al termine di una addirittura fatta tutta a testa bassa concentrato bellissimo il duello testa a testa spalla contro spalla con Maturlo ma alla fine dall'interno la risolve Melfi con tanto di esultanza Dario di Tocco in sella i colori sono quelli della Chelsea SRLS training della Endo Bottigaloppo vince il numero 9 nei confronti Maturlo che è il numero 8 per il terzo l'ospite tedesco Gorghan dai maschi alle femmine siamo al premio Regina Elena le cavalle di tre anni impegnate anche loro sulla distanza dei 1600 metri campo partente inutrito in 17 dietro le gabbie corsa apertissima anche alle sorprese e infatti dopo un arrivo entusiasmante ecco la regina che non ti aspetti l'importata Binam finora solo velocista impegnata sulle distanze più brevi batte tutte le avversarie con Germano Marcelli in sella per Fabio Boccardelli una vittoria a quota shock 66 contro 1 che spiazza gli scommettitori è unita all'altra sorpresona il secondo posto di Gran Saxon davanti a Caie Almazora retrocessa ai giudici dal secondo al terzo posto rende imprendibile la trisquarta e quinta della domenica da percorrere con atmosfera sempre in vantaggio Binam che sposta i suoi fianchi carica a testa bassa anche Amorevole che è in terza corsia all'interno c'è la grigia Tri Avanas ci prova a Tomico a diventare della partita poi ancora Eternal Blossom per corsie più esterne c'è la figura di Siulife Reta Star sta cercando lo spazio Gran Saxon all'esterno ha cambiato marcia anche Calle Almazora torniamo in cima alla competizione perché atmosfera è sempre sotto la pressione esterna di Binam Calle Almazora cerca di unirsi alla lotta Amorevole che rimane in quota Gran Saxon che deve cercare il cambio di marcia Calle Almazora che prova a premere su Binam la quale resta ancora in vantaggio Binam contro Calle Almazora Binam di dentro Calle Almazora Binam che vince un'incredibile Regina Elena Binam che fino adesso aveva fatto solo la velocità vince a 69 contro 1 Binam Germano Marcelli in sella training di Fabio Boccardelli i colori sono di Matteo Belluscio abbiamo lasciato in coda altre due prove del convegno romano il premio Unione proprietari Galoppo è una listed per cavalli di 4 anni oltre sui 1500 metri handicap principale A e qui il peso impegnativo non ferma canticchiando che vince da favorito il suo terzo handicap principale dopo regoli Ennearco il 6 anni pupilo di Francesca Turri che Marco Gasparini affidava a Marcellan Colmarcai ha preceduto al traguardo Renegade e Frozen Juke ora per canticchiando il bottino di 9 vittorie in 40 corse in quarta impacchettato all'interno c'è anche meno poi per corsie esterne si fanno sotto Renegade e l'Oper Evolution ancora più all'esterno se ci spostiamo al centro della pista c'è Self-Praise che attacca cattivo insieme allo stesso Frozen Juke ci sono 4 cavalli a lottare con Renegade che è definitivamente passato in vantaggio dall'esterno ci prova Self-Praise rimane in contatto anche Frozen Juke all'interno non cambia marcia Man in promise ci prova Terrible Land dall'esterno si sta involando canticchiando canticchiando che va ad aggredire Renegade nel tratto conclusivo lo giustizia sportivamente parlando l'interpretazione magistrale confident è di Marsella con Marcai 1 al primo posto canticchiando al secondo numero 7 Renegade e poi al terzo il numero 3 Frozen Juke 173 è l'ordine d'arrivo ufficioso numerico e probabile della penultima corsa di quest'oggi a Capannelle e siamo all'ultima corsa di giornata ancora l'ipotoroma delle Capannelle il premio Jebel Ali con le femmine in pista sulla distanza dei 1500 metri in questo handicap principale C con 13 partenti e tanto equilibrio qui a prendersi la scena anche un po' a sorpresa Alabama Pearl con Michael Arras in sella e Stefano Mariotti al training ottima la progressione che la porta al successo di prestigio il secondo della sua carriera in 20 corse rifilando quasi una lunghezza a Sound of Love e a Summer Lady appaiate sul palo e finite poi nell'ordine la stessa Speed to Run siamo in retta d'arrivo anzi Diablita quella in ultima posizione siamo in retta d'arrivo velocemente con davanti ancora la sceriffetta ha trovato già un ottimo varco Belinda Bell dall'interno che sferra l'attacco la Bama che si presenta ma ancora più cattiva è Aquila Reale poi dal centro della pista si fanno sotto anche Jar Jar Binks la stessa Contagion ci prova Sound of Love Speed to Run Deadline quando siamo però a 300 a traguardo Alabama Pearl che preme sull'acceleratore passa in vantaggio Belinda Bell ha sorrito lo spunto allora ci provano quelle al centro della pista con una fiondata Sound of Love ci prova dall'esterno ma intanto Alabama Pearl ha fatto i conti bene e respinge anche l'ultimo assalto di Sound of Love e poi per il terzo posto Summer Lady vince Alabama Pearl 11 al primo posto 10 Sound of Love per il secondo andiamo un po' per il terzo a confermare si dovrebbe essere numero 7 di Summer Lady era questo il nostro ultimo servizio noi vi ringraziamo per aver seguito dopo Corsa l'appuntamento con questa rubrica e per il prossimo lunedì arrivederci a a a